Sì, buongiorno. Restano chiuse le scuole, almeno fino a domani a Itri, in provincia di Latina. Resta la paura, si continua a guardare al cielo nella speranza che non ci siano nuovi, forti piogge a fare ulteriori danni. Intanto si calcolano quelli causati dal maltempo di mercoledì scorso che ha messo in ginocchio il paese pontino, in particolare la contrada Campiglioni, travolta da un fiume di fango e detriti. Ieri c'è stato un vertice in comune con il prefetto di Latina, Maurizio Falco. La giunta ha deliberato la richiesta dello stato di emergenza. Si lavora per mettere in sicurezza i luoghi più colpiti dalla frana. Si continua a spalare nelle strade, nelle piazze, nei sentieri invasi dal fango. Lo dicevi, parlando di maltempo, ci sono poi abitazioni, 12 villette, che si trovano nelle vicinanze della zona della frana, che sono state evacuate. Sarebbero una quindicina finora le famiglie sgomberate, sistemate a spese del comune in strutture ricettive della zona. È tutto, linea a voi.